Ciao e benvenuti sul mio canale, io sono Alessia e oggi faremo insieme un workout total body di 10 minuti. Faremo 10 esercizi diversi con la modalità di 45 secondi on e 15 secondi off, ovvero di pausa. Per questo allenamento da fare a casa con i pesiti ci vorranno due manubri, penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, quindi iniziamo! No one ever goes, and it all, on a broken train with, nobody I know, but the pain, and no one is the same when you die, yeah, now I'm lost, and I'm screaming for help. Che Che Sì, che riesce, potrebbe stare qui e in giù Sì, che riesce, venero mio, venero mio Sì, che riesce, potrebbe stare qui e in giù Sì, che riesce, venero mio, venero mio 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 Venero mio, venero mio Venero mio Venero mio Venero mio, venero mio Venero mio, venero mio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti